Ciao a tutti, bentornati sul mio Gessoflotus, breve pills di un paio di minuti al massimo in cui vi dico la mia su il mazzo sul quale punto per quanto riguarda il Pro Tour di fine settimana, di questo fine settimana. Come voi ben sapete ci sarà il Pro Tour che noi seguiremo in live su Twitch e su YouTube in contemporanea durante praticamente tutto il weekend, quindi vi invito a seguirci su entrambi i canali se non l'avete ancora fatto ed eventualmente anche entrare sul canale Telegram in modo da rimanere aggiornati sui nostri orari delle live, ma tendenzialmente cercheremo di seguirlo il più possibile e darvi un commento in italiano del Pro Tour modern tanto tanto atteso di questa fine settimana. Quindi mi raccomando non mancate perché è un appuntamento importantissimo che non vediamo l'ora di affrontare insieme e di commentare insieme a voi, quindi venite in chat, venite qui su YouTube, su Twitch che sicuramente ce ce n'è per tutti, ce n'è da divertirsi, anche se non seguite il formato potrebbe essere un punto di inizio, un punto di spunto per incominciare a seguirlo e magari anche appassionarvi. Le mie due lire per quanto riguarda il mazzo che rappresenta un po' la mia scommessa, cioè scommetto sul mazzo che vinceva il Pro Tour, ovviamente non è detto che mica questo mazzo, ci sono tantissimi mazzi forti e li abbiamo analizzati in numerevoli video e in un sacco di live, quindi non mi dilungo ovviamente su questa cosa. Brevemente Living Hand, secondo me potrebbe essere un mazzo che magari non vince Pro Tour ma che farà veramente molto bene e che mi aspetto raggiunga le vette più alte. Il mazzo ha guadagnato tantissimo, lo sapete, dall'uscita di Lord of the Rings grazie ai due ciclanti, l'ent e l'olifante, che ci permettono di ridurre drasticamente il numero di terre giocate nel mazzo e sostituirla con questi ciclanti che oltre che cercarci una terra nel mazzo ci mettono una creatura veramente molto grossa al cimitero fin dai primi turni della partita. Questo ci consente di cascare Living Hand già nei primissimi turni, magari turno 3, turno 4 grazie a Shardless Agent oppure all'Outburst e quindi fare un vantaggio veramente molto molto importante mettendo sul board tantissime creature giganti che abbiamo ciclato nei primi turni senza particolare sfiga. Tra l'altro questa cosa oltre che aggiungerci una terra in mano e a metterci una creatura al cimiterci dà la possibilità di pulire il mazzo da eventuali altre carte e quindi dare più spazio alla pescata dei cascanti fondamentali per il nostro piano di gioco. Il mazzo è ben supportato e ben protetto anche grazie a 4 per di Force of Negation, 4 per di Griff che ci permettono di proteggere molto bene il nostro piano combo e poi eventualmente ad una serie di removal che si possono giocare fra main e side come per esempio Furi oppure ancora di side le Force of Vigor, le Endurance per fare aid sul cimitero eccetera. Quindi il mazzo di base è un mazzo molto molto completo che penso performerà molto bene. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Living Hand se anche secondo voi farà degli ottimi risultati e qual è secondo voi il mazzo che vincerà il Pro Tour. Ciao a tutti e alla prossima!